In giro c'è un'altra cosa che ci dicono, e cioè che Gemmato va forte, va fortissimo. Devo dire che anche nell'immaginario, diciamo, venendo da casa mia, da in fondo ai Carabinieri fino a qua, la città è piena di manifesti, di comitati elettorali, di incontri, c'è questa sola abbondanza, diciamo, è strano, diciamo, tutta questa capacità di movimentismo nel centro-destra, che fa invidia anche ai centri sociali, devo dire, in questo periodo, proprio stanno facendo incontri e dibattiti a tutta forza. Però la gente dice, però Gemmato va forte, che dobbiamo... Buon per lui? Cioè, che cosa vi posso dire? Buon per lui?